Gesù ritornerà mai più visibilmente in questa terra? Gesù Cristo ritornerà visibilmente su questa terra alla fine del mondo, per giudicare i vivi e morti, ossia tutti gli uomini buoni e cattivi. Primo, Gesù Cristo ritornerà visibilmente su questa terra alla fine del mondo. Come Dio, Cristo è in ogni luogo e non ha bisogno di tornare sulla terra. Come uomo si è reso invisibile a noi nell'ascensione. Anche la sua permanenza nell'Eucaristia è velata dalla specie del pane e del vino, sotto le quali si nascondono il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e divinità. Ora, Gesù Cristo è presente su questa terra, ma è invisibile. Egli però ha rivelato che tornerà visibilmente con la sua santissima umanità. Vedrete il figlio dell'uomo sedere a destra della potenza di Dio e venire sulle nubi del cielo. I due angeli che apparvero agli apostoli, mentre ancora guardavano in alto, là dove Gesù era scomparso, rendendosi invisibile con l'ascensione, dissero Quel Gesù che vi è stato tolto è stato assunto in cielo e verrà, come lo avete veduto, andare in cielo. Questa verrà alla fine del mondo, quando il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli si scotteranno. Quanto poi, al tempo in cui cadranno queste cose, nessuno lo sa, nemmeno gli angeli del cielo, ma solo il Padre, perché il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Secondo, per giudicare i vivi e i morti, ossia tutti gli uomini buoni e cattivi, avendogli irredenti col sangue divino, ed essendo il capo dell'umanità intera per la sua incarnazione, Gesù Cristo ha il supremo diritto di giudicare con verità e giustizia tutti gli uomini, assegnando a ciascuno il premio o il castigo, secondo i meriti acquistati in vita. Tutti gli uomini compariranno davanti a Lui, sia i buoni che vissero nella sua grazia e meritarono la gloria del cielo, e sia i cattivi che morirono nella colpa e meritarono la pena eterna dell'inferno, sia quelli morti prima del giorno del giudizio, e sia quelli che saranno ancora vivi. Tutta l'umanità è in via verso Cristo giudice, e meta del moto umano verso la verità e la vita perfetta.